Il 5 novembre l'insile di San Pio presso la chiesa di San Bernardo situata su Doran St. Jane, Rosario alle ore 19 e Santa Dessa alle 19.30. Per informazioni 416-241-6738. Il 10 novembre il circolo Morgezio Social Talk di San Giorgio Morgezio Reggio Calabria organizza l'annuale festa natalizia che si terrà a Concord per informazioni 905-832-3185. L'11 novembre il Remembrance Day presso la chiesa di San Francesco d'Assisi su Quay Street alle ore 9 in onore ai caduti di tutte le guerre. Per informazioni 416-588-8042. L'11 novembre il Comitato San Filesi dei Voti San Francesco di Paola vi invita alla Santa Nessa alle ore 15 nella chiesa di St. Joseph de Walker a Tornel in suffraggio dei cari debuti San Filesi. Per informazioni 416-789-7734. Il 16 novembre il Let's Rock and Roll Away, quinto anno di anniversario con una serata di Black and White Gala Concord. Per informazioni 905-879-0172. Il 17 novembre la Pietra Fitta Social Club vi invita alla festa annuale della Puccia a Woodbridge. Per informazioni 416-476-4822. Il 17 novembre l'Associazione Bersaglieri di Toronto organizza l'annuale festa Piume al Vento con una serata di Gala Concord. Per informazioni 905-893-7218. Il 17 novembre il Club Vallelonga Mozartato in occasione del cinquantesimo anniversario presenta San Martino Vallelongese di Inredenza Concord. Per informazioni 416-987-4400. Il 17 novembre il Ciociaro Social Club per il cinquantesimo anniversario festeggia una serata di Gala Concord. Per informazioni 905-832-9550. Il 17 novembre il Velocia con la Vita Foundation festeggia il 7th Annual fundraiser Gala per una buona causa Woodbridge. Per informazioni 416-633-7493. Il 21 novembre la Chiesa di St. Clair a Toronto organizza il peregrinaggio alla Holy Land. Per informazioni 416-618-8244. Il 24 novembre la Chiesa di San Bernardo organizza il peregrinaggio a Patina. Per informazioni 416-244-0321. Il 24 novembre la Fondazione San Gerardo Maiella di Toronto organizza una serata di Gala Concord. Per informazioni 416-742-2180. Il 25 novembre siete invitati al The Theopoli Family Celebration Dinner in Etopico. Per informazioni 416-243-7319 o info-theopoli.com. Grazie. 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 Grazie a tutti.